Colpo grosso dei carabinieri della compagnia di Siniscola che col supporto dello squadrone cacciatori di Sardegna in un ovile all'Oculi hanno sequestrato 50 kg di marijuana di ottima qualità, 12 g di eroina e 124 mila euro in contanti. In manette sono finite 5 persone, si tratta di Giovanni Mercurio, 50 anni di Loculi, proprietario dell'Ovile, del nipote Roberto Mura, di 31 anni, Giuseppe Arena, 37 anni di Como, Silvio Palmeri, di 42 anni di Monza e Matteo Pinna, 42 anni di San Massi. I particolari dell'operazione sono stati illustrati stamattina dal comandante della compagnia di Siniscola, il capitano Andrea Senes, alla presenza del tenente Sergio Pagliettini. Dal 2009 Mercurio era sotto controllo dopo che gli erano stati sequestrati 267 mila euro in contanti, di cui non aveva saputo spiegare la provenienza. Nei mesi scorsi i carabinieri hanno deciso di intensificare i controlli perché c'era il fondato sospetto che Mercurio fosse in contatto con elementi di rilievo della criminalità sarda e della penisola. I cacciatori di Sardegna hanno organizzato un'operazione di monitoraggio dell'Ovile e di Mercurio. Alcune settimane fa era stato registrato un incontro di Mercurio con un soggetto proveniente da Como, Arena appunto. L'attività è continuata fino a ieri quando nell'Ovile è stata notata la presenza, oltre che di Mercurio e del nipote, di Arena e di Pinna unitamente ad un camper. I carabinieri hanno osservato che dal mezzo erano stati scaricati due grossi bidoni di plastica e hanno deciso di effettuare il blitz che ha dato i frutti sperati. Divisi in panetti e all'interno dei contenitori sono stati sequestrati 50 kg di marijuana di provenienza albanese e un assaggio di eroina che preludeva l'invio di 15-20 kg dalla stessa sostanza. Inoltre nel corso della perquisizione sono saltati fuori 124.000 euro che sarebbero dovuti servire per il pagamento della droga. Mancava l'appello all'autista del camper che non è stato trovato nell'Ovile. Sono partite le ricerche e Palmeri, che aveva guidato il mezzo da Genova fino all'Euculi, è stato bloccato nel distributore Kuwaiti di Sologo. L'operazione conferma che Mercurio aveva rapporti con la criminalità calabrese albanese. Quanto alla droga si presume che fosse destinata al mercato sardo. Si tratta di stupefacente di prima qualità proveniente dall'Albania. Quanto all'eroina, il campione si arriva a tastare nella qualità in vista dell'invio di un carico consistente. Ma l'intervento dei carabinieri ha posto fine ad un traffico che con ogni probabilità andava avanti da tempo. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel calcio di Badue Carros e messi a disposizione dall'autorità giudiziaria.